20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire... Non hai voglia di uscire... Non hai voglia di uscire... Non hai voglia di uscire... 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che... E' chiaro che più lo prendiamo più tempo e sempre avremo la possibilità di migliorare questa tecnica, va bene? L'importante comunque oggi è divertirci e camminare, che è la cosa fondamentale, va bene? Vogliamo... Per quanto riguarda il concorso, chi ce lo indica? Il calzolaio, il calzolaio puoi... 10 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire... Non hai voglia di uscire... Non hai voglia di uscire... Se ci legava i due mari... Se legava i due mari, lo ione e il tirreno, per poi era un punto strategico per controllare l'intero territorio... 20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 km al giorno, per poi sentirmi dire che...